No, non diciamo, non lo diciamo a nessuno che è un fatto di oggi, perché io ho portato con me il libro scritto da un magistrato, Michele Del Gaudio, attualmente in pensione, vive a Torra Annunziata, ma sarebbe venuto se non avessi avuto già impegni, ma speriamo di contarlo. Ebbene, questo magistrato nel 1990, cioè vent'anni fa, ha pubblicato in libro, quindi per scriverlo un paio d'altro, poi per come precisione sicuramente aveva scappato il letto mille volte. E che cosa diceva? Diceva esattamente quello che dice il ministro Maroni oggi. E non è che noi non lo sapevamo, non lo volevamo dire, non lo volevamo far sapere. La mia denuncia è solo un invito a migliorare le cose, a informare di più, a farle con noi. Vi faccio mettere tre secondi e vi leggo quello che questo magistrato scriveva nel 1990.